Essere una sovrana non significa non commettere mai un errore. Se è una grande guerra quella che volete, la otterrete certamente. Non ce la faccio. Mi hai sempre detto che un Kaiser non deve mai mostrare debolezza. L'amore profondo ci rende vulnerabili. In prima assoluta, Sissi. Ultimo appuntamento. Martedì in prima serata su Canale 5.